ok ragazzi siamo siamo nel secondo video giornaliero allora voi lo vedrete in due giorni diversi praticamente il video di ieri quando ho aperto tutte quelle casse e ho trovato completato il mazzo e ho trovato altre carte oggi siamo qua per continuare diciamo quel video di ieri perché visto che appena concluso il video è uscito il 50 per cento di sconto con il boom di carte ho deciso di fare questo video proprio per vedere con queste 120 carte se almeno riesco a trovare nuove carte dai caspita cioè io regà come vi ho detto nello scorso video vorrei trovare quella la tre carte che non è manco leggendaria quindi io spero di trovare quella la almeno non pretendo tanto e almeno una leggendaria oggi la dobbiamo trovare una leggendaria e una non leggendaria almeno non voglio uscire non voglio uscire manco quelle altre stelle ma che meno vi voglio l'ultima niente niente di niente di niente di niente di niente aspettiamo che carica forse il caricamento ci aiuta a trovare a creare qualcosa di sostanzioso qualcosa di forte potente ma verrà vedo lo schifo soltanto dai su 12 carta non è una nuova leggendaria mamma mia il caspita niente non vuole uscire manco quella la a tre stelle possibile comunque regà ve lo dico almeno raggiungiamo fino a 10 raggiungiamo con i bauli fino a spendere fino ad arrivare a 10 miliardi di monete per poi concludere il video e comunque regà ce ne sono molte box fino ad arrivare a 10 miliardi di monete in teore regà non esce manco la nuova carta non è possibile il gioco sta iniziano pure allargare regà rendetevi conto perché sta prendendo troppi bauli vai tocco magico questo ha caricato molto regà quindi forse in queste 10 box potremmo trovare qualche nuova carta cosa perchè sta allargando non capisco dai qua dovete leggendare manco una nuova carta mannaggia è possibile che non escono allora regà facciamo così se non troviamo fino ad arrivare a 10 miliardi di monete se non riesciamo a trovare almeno una nuova carta io metto a fare metto a fare il video fino a spendere tutte le monete adesso il gioco mi sente e mi ha fatto fare subito una nuova tanto regà ce ne sono ancora di box però visto che comunque c'è ne abbiamo già aperte molte ci sta pure il boom di carte quindi come è possibile che non ne esce ma alcuna nuova carta quindi come ve l'ho detto se non riusciamo a trovare carte fino ad arrivare a 10 milioni di monete miliardi anzi di monete e risponderò tutte quante anche quelle 10 miliardi rimanenti ancora niente ancora niente sempre tutti doppioni sia leggendari che normali dai una nuova carta leggendaria me la fate trovare niente non me la vanno trovare né non comune né leggendario mannaggia niente raga nemmeno in questi box non ho trovato il nulla raga forse potrei usare un metodo per aprire questi pauli potrei stare zitto per vedere se il gioco mi vuole far cacciare qualche carta nuova o qualche nel senso uno o due quindi raga noi ci vediamo diciamo tra qualche oddio mi sono sceso il leggendario in una box mamma mia comunque raga stavo dicendo adesso sto per 10 sì 10 minuti uno o due minuti zitto per vedere se riesco a trovare una nuova carta quindi raga mi muto per due minuti vediamo se riesco a trovare una nuova carta che non ha dato in una box non ho trovare una nuova carta che ne ho trovato non ho trovato chute un vetro Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci sono due leggendari in una box ma ancora niente. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.